Ok, perfetto. No, voglio riguardare, se no... Buon poveriggio a tutti. Siamo qui per parlare di ecosistemi di dati per la produzione e il consumo di energia, tema di rilevante attualità. Ne parliamo con Alessio Meloni, che lavora in un'azienda specializzata nella ricerca dei trend futuri, sia a livello tecnologico che anche regolatorio, uno dei principali esperti di ecosistemi di dati. Con il professor Paolo Mariani, professore ordinario di Statistica Economica dell'Università Milano Bicocca, nonché consigliere della Società Italiana di Statistica, e col direttore ISTAT Daniele Colombo, che tra le sue responsabilità è anche quella del Sistema Statistico Nazionale e delle relazioni istituzionali. Allora, prima di iniziare, una brevissima premessa. Allora, nel 2022, cito il rapporto annuale dell'Ista, che è la nostra Bibbia, diciamo, statistica, il tema fondamentale è stato l'incremento dei costi di energia. Quindi, fondamentalmente, ci siamo trovati in un mondo in cui i costi di energia sono schizzati alle stelle e quindi si è creata una domanda informativa molto forte sull'energia, che ha riguardato sia appunto come gestire una crisi energetica senza precedenti, sia anche come avviare e rafforzare la progettazione degli investimenti PNR sulle energie sostenibili. Noi parliamo dal punto di vista della produzione, quindi di chi deve produrre i numeri. Il sistema di produzione statistica ufficiale da energia è ben organizzato nell'ambito del Sistema. Ci sono almeno 4-5 enti principali e altri enti secondari che producono statistica, però, secondo una logica stop pipe, cioè tendenzialmente ognuno utilizza i propri dati. E quindi la domanda informativa che si è creata è, ok, ognuno ha i propri dati, ma l'informazione che a me interessa deve essere più tentestiva, più granulare, più integrata. E quindi ci siamo trovati un po' in difficoltà nel dover gestire domande sempre più puntuali e sempre più, diciamo, dettagliate. E questo appunto determina una capacità di risposta del sistema statistico nazionale, principalmente, ma anche appunto dell'economia italiana, della società italiana. Come facciamo a rispondere a questa domanda informativa? E soprattutto qual è il modello di governance dei dati che rende, diciamo, sostenibile? Perché ovviamente l'Istat non si può occupare di tutto e quindi il settore dell'energia vede l'Istat come, diciamo, socio di, diciamo, minoranza rispetto ad altri nella produzione di questi dati. Quindi la mia prima domanda che rivolgo al dottor Meloni è perché ha senso parlare di un ecosistema di dati, quali sono i vantaggi di un ecosistema di dati sull'energia rispetto a altri modelli di data governance in cui, diciamo, l'ente proprietario gestisce i propri dati oppure siamo in un mondo di big data nel quale i dati ci sono ma sono di qualità incerta. Grazie, grazie Stefano, prima di tutto per l'invito. È davvero un piacere essere di nuovo anche quest'anno qui con voi. Allora, inizierei con un passo indietro. Che cos'è un ecosistema? Prima di parlare di un ecosistema di dati, che cos'è un ecosistema e perché è importante oggi nel mondo dell'energia, più degli scorsi anni? Un ecosistema sostanzialmente si compone di quattro elementi fondamentali che sono i attori, ovviamente, che partecipano all'ecosistema, un elemento chiave che sono i meccanismi di scambio di valore. I meccanismi di scambio di valore tra gli attori dell'ecosistema. Questo è uno degli elementi su cui occorre focalizzare l'attenzione per capire perché oggi serve un ecosistema di energia nell'ambito dell'energia, perché l'Europa si sta muovendo anche con le sue politiche regolatorie e gli altri due elementi che caratterizzano un ecosistema sono le regole, la governance, come si discuteva anche prima, e quelle che noi chiamiamo in Gardner le shared capabilities, cioè quelle capacità, quei servizi, quelle piattaforme anche condivise che permettono effettivamente all'ecosistema di funzionare. Ora, se guardiamo l'ecosistema dei dati dell'energia possiamo capire come oggi nella nuova era energetica che è strutturata su tre elementi fondamentali decarbonizzazione, decentralizzazione e democratizzazione della produzione energetica. Questi sono gli elementi che supportano sia gli obiettivi di sovranità energetica e contrasto in qualche modo all'uso geopolitico dell'energia che stiamo ovviamente osservando da un lato, sia dall'altro il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica. Quindi è una congiunzione di obiettivi in cui il dato e la digitalizzazione del sistema energetico è un elemento fondamentale. Quindi ci dobbiamo chiedere perché è un elemento fondamentale, perché la decarbonizzazione, la decentralizzazione, la democratizzazione dell'energia non può funzionare se non attraverso un ecosistema dei dati. La risposta a questa domanda sta alla natura stessa di un sistema decarbonizzato e decentralizzato, ovvero la natura discontinua delle fonti energetiche fa sì che non possiamo più operare come operavamo dieci anni fa, cioè non ci occupavamo più di tanto della domanda energetica, del consumo, di influenzare in qualche modo il consumo. Potevamo avere una struttura della domanda energetica rigida, perché con tecniche varie si riusciva a pianificare in modo corretto, ad adeguare in modo corretto con le fonti fossili l'offerta di energia. Nel mondo invece decarbonizzato, decentralizzato e democratizzato serve una flessibilizzazione della domanda. E questo è quello a cui l'Europa con le iniziative di data spaces nel mondo dell'energia sta tentando di arrivare. E questa flessibilizzazione che vuol dire concretamente ad esempio rendere più intelligenti le nostre case, i nostri device che consumano energie e inserire una certa adattabilità del consumo rispetto alla produzione oppure sfruttare trend emergenti come quelli della mobilità elettrica, che ci offrono un sistema di storage distribuito e quindi abilitare il cosiddetto vehicle to grid reimmissione di energia dalle auto all'interno della rete. Ecco, tutti questi fenomeni che correttamente anche in Unione Europea vengono qualificati come flessibilizzazione del consumo di energia possono essere abilitati solo e soltanto attraverso un ecosistema che consente uno scambio molto pervasivo e molto granulare dei dati di consumo dei dati di produzione laddove i dati di produzione sono produzione solare di prosumer piccoli pannelli solari sui tetti piuttosto che produzione data dalla reimmissione ad esempio sul grid sulla rete di energia accumulata come quella nei veicoli o in battery pack all'interno delle abitazioni quindi il primo messaggio forte è l'ecosistema dati nel mondo dell'energia serve ad abilitare una costruzione che nelle nostre aspettative dovrebbe portarci nell'aspettative dell'Europa dovrebbe portare a circa un 60% di incidenza delle rinnovabili tra meno di 10 anni e possibilmente a una neutralità ambientale una neutralità net zero nel mondo dell'energia nei prossimi 20 anni quindi questo è il perché serve un ecosistema di dati nel mondo dell'energia ok grazie un tema rilevante diciamo sicuramente quello dell'autoproduzione che non viene attualmente neanche rilevato dall'ISTAT e per il quale appunto sarebbe utile cominciare una misurazione allora passo la parola al professor Mariani chiedendo appunto ma dove sono i dati rilevanti per l'energia e come integrarli e qual è secondo lui l'ambiente inteso come il contesto l'infrastruttura diciamo il perimetro che deve essere diciamo disegnato nell'ambito del quale puoi procedere attivare processi di integrazione molte grazie mi associo ai ringraziamenti sia per l'invito che all'organizzazione degli eventi sono strutturati veramente molto bene ma i dati già qualche tempo fa la professoressa Pratesi ieri aveva accennato al fatto che ci sono molti dati che in questo momento non sono utilizzati proprio rispetto all'energia all'emissore dell'energia i dati possono essere presi per popolare questo ecosistema da diverse chiamiamole fonti poi dovremmo discutere disambiguare bene che cosa si intende per fonti insomma rimaniamo un po' sul generale beh la prima sicuramente potrebbe essere quella all'interno delle aziende che producono o commercializzano energia distribuiscono energia che ad oggi vengono utilizzati nella quasi totalità da applicativi verticali per modelli gestionali interni e non vengono condivisi e messi a fattore comune in questo ambiente di questo ecosistema di cui si è appena parlato questa è una prima famiglia di dati che potrebbe essere inserita c'è una seconda famiglia ancora più interessante che potrebbe essere quella che deriva dalle tracce digitali che ognuno di noi lascia quotidianamente nell'utilizzo nel consumo di energia questo potrebbe arrivare direttamente non solo dagli approcci smart che ora siamo più abituati un po' a vivere all'interno delle nostre abitazioni ma in generale potrebbero essere oggetto anche di comunicazione diretta da parte dei sistemi di rilevazione faccio un esempio dei contatori per esempio quindi poter andare un pochino con un dettaglio con una granularità maggiore su queste tipologie di dati e un po' torniamo al concetto della velocità dei dati quindi del fatto che potrebbero essere prodotti sono dati molto veloci sono hanno grandi volumi ora torniamo un po' nell'ambito avevi accennato all'inizio di big data sono dati con grandi volumi e che si potrebbero presentare anche con una varietà di forme da poter poi mettere a fattore comune per poter essere elaborate ovviamente questa collezione nuova collezione di dati che noi possiamo utilizzare non prescinde dall'ambiente ora è stato un po' indicato e qui anche in questo caso dovremmo provare a ipotizzare quale possa essere l'ambiente migliore dove poter inserire queste nuove popolazioni di dati e cominciarci insomma a lavorare un po' un po' su questi dati dovrebbero avere un ambiente ora lo diciamo in maniera più generale magari poi possiamo approfondirlo che consenta anche la creazione di nuove modelli informativi quindi non solo un repository un luogo dove posizioniamo i nostri dati e poi diciamo all'uomo andiamo a tirare giù i dati che ci servono ma che abbiano anche la possibilità di integrarsi fra di loro di ibridarsi di fornire modelli informativi diversi comportamenti diversi rispetto a quelli che potremmo evincere da una singola lettura di un'unica fonte informativa questo potrebbe essere uno degli obiettivi da indicare proprio per la futura gestione di questa tipologia dei dati così importanti proprio in generale per il nostro sistema paese ok la ringrazio adesso passiamo a Davide Colombo per Davide ho una domanda diciamo nel suo ruolo istituzionale di appunto direttore del SISTAN da molti anni l'ISTAT ha definito un perimetro più ampio per quanto riguarda la produzione statistica ufficiale esiste un quadro regolatorio che consente agli enti SISTAN tramite gli uffici di statistica lo scambio dei microdati quindi di fatto esiste un ecosistema della statistica ufficiale era una delle idee di Davide quando sono venuto all'ISTAT mi ha detto ma perché non organizziamo il SISTAN su base tematica sarebbe più interessante cominciare diciamo a far interagire maggiormente diciamo i soggetti SISTAN su base di appunto di un obiettivo tematico ecco la mia domanda per Davide è appunto il diciamo il SISTAN è una condizione abilitante per un ecosistema di dati che magari altri soggetti devono definire contrattualmente a fatica quindi noi abbiamo già fatto un passo in avanti il prossimo passo sarebbe quello di cominciare a costruire prodotti insieme con gli altri enti Sì grazie Stefano l'idea è esattamente questa ed è un'idea che è nata da una come dire confronto che ho avuto con Stefano poco prima dell'upgrade del PNRR con Repower UE quindi poi dopo è arrivato Repower UE e abbiamo capito che era forse il momento giusto per almeno tentarci e cioè c'è un ciclo di policy che ha messo a tema la questione di come gestire come finanziare come fare investimenti pubblici e privati per la transizione ecologica dal punto di vista energetico c'è una questione di nuovo approvvigionamento energetico di un paese che ha dovuto immediatamente dalla sera alla mattina riposizionarsi rispetto a un conflitto bellico in Ucraina c'è un sistema che ha una storia che non prevedeva questo cambiamento completo di contesto il Sistan è un sistema dentro il quale ci sono soggetti che quando sono entrati erano uffici statistici di enti ministeriali ora sono diventati società quotate come GSE Eterna ci sono delle authority c'è acquirente unico manca Arera ma è una stranezza perché Arera dovrebbe far parte del Sistan a questo punto della storia perché è l'authority di riferimento questi soggetti nel loro insieme a questo punto possono condividere una governance dei dati e delle statistiche sull'energia che come dire se si realizzasse consentirebbe al sistema paese di fare un passo avanti clamoroso io nel mio piccolo credo di aver capito che il tema è misurare meglio i consumi per risparmiare meglio l'energia che viene prodotta e fare in questo modo la transizione che dobbiamo fare anche per esempio per provare a avvicinarci a dei target tipo Agenda 2030 piuttosto ecco se questo è il tema io come dire dal confronto interno che abbiamo avuto abbiamo pensato che il Sistan potrebbe essere il riferimento istituzionale che prova a dare una capacità abilitante con le competenze dell'Istat anche in termini non solamente di utilizzo dei dati analisi dei dati per produrre la statistica ufficiale ma anche dal punto di vista della stewardship cioè quello di consentire a soggetti diversi di fare una lettura condivisa dello stesso dato una metadatazione condivisa c'è qui il presidente della COGIS approfitto per dire che per esempio provare a ragionare su un calendario Sistan delle principali pubblicazioni delle reportistiche sulle statistiche dei dati in materia per esempio energetica consentirebbe di avvicinare migliorare diciamo questo tipo di produzione di statistica ufficiale a quelli che sono come dire almeno tre dei sedici principi del codice di qualità della statistica europea cioè avere una calendario certo indipendente dal decisore polipittico che ti dice anno dopo anno quando usciamo con che dato con quale valore aggiunto eccetera sono dati che servono per misurare le politiche energetiche in questo caso scusami Stefano se uso prima abbiamo parlato stamattina di inflazione questo qui è un campo secondo me nel quale la politica dovrebbe essere data driven come la politica monetaria cioè tu dovresti usare l'ecosistema dei dati proprio per fare quello che fa la politica energetica sensata in un paese con risorse scarse e che deve fare un percorso di un certo tipo per esempio anche questa veramente una ricaduta che non ci si pensava finché non succedano le discontinuità non ci si pensa è in corso una metamorfosi nel sistema delle imprese nella direzione dell'autoproduzione che noi non leggiamo in questo momento non riusciamo a leggere quante aziende si sono dotati di sistemi di autoproduzione che hanno ricoperto i loro capannoni di pannelli solari noi lo leggiamo in maniera indiretta perché vediamo che i costi intermedi si riducono però questa è una lettura indiretta sarebbe bello la lettura diretta che diceva prima il nostro interlocutore per dire quale tipo di autoproduzione è in corso ecco tutto questo sistema qui che riguarda pesantemente le scelte del decisore pubblico e i destini energetici del paese secondo noi da un buon governo di questo ecosistema di dati potrebbe dare una mano per rispondere con dei quadri informativi puntuali utili aggiornati anno per anno e così via questa era l'idea ok grazie mille Davide molto interessante adesso diciamo passiamo a un secondo giro e vorrei prendere alcuni spunti che sono emersi da diciamo ciascuno di voi ma con particolare riguardo anche a quelli che potrebbero essere i potenziali rischi di un ecosistema di dati perché fondamentalmente quando c'è un unico ente come l'istituto nazionale statistica con finalità di diciamo statistica pubblica verticalmente integrato che è coinciso tutti i dati può essere inefficiente ma comunque c'è una garanzia che l'informazione poi venga resa pubblica per la collettività e un ecosistema di dati anche un approccio evolutivo è un sistema chiuso fondamentalmente in questo sistema chiuso sopravvivono i soggetti più forti e si genera una simmetria informativa rispetto ai soggetti che non partecipano all'ecosistema di dati quindi le domande che vorrei rivolgere a Alessio sono due la prima è come cresce e come evolve un ecosistema di dati perché ovviamente appunto è un qualcosa che deve essere incentivato che deve crescere ci devono essere incentivi ma come questa crescita poi può essere equilibrata perché poi rischia di essere predatoria rispetto agli altri rispondo alla domanda allora riallacciandomi a quello che si diceva sul ruolo che deve avere un soggetto pubblico prima di tutto chiariamo che il primo rischio di un ecosistema è che non si sviluppi proprio ok questo è il primo è il primo rischio ma per un motivo molto banale e lo abbiamo visto in tantissimi settori creare un ecosistema di dati in cui vengono forzati degli scambi di dati fa due cose consente nuovi servizi nuovi scambi di valore quindi aumenta la possibilità per i vari soggetti pensiamo appunto a servizi digitali che possono aiutare ad adeguare il consumo al risparmio e così via da un lato quindi da un lato per chi scambia il dato dà opportunità dall'altro abbassa le barriere e crea competizione smonta e crea mercato quindi il dato su tantissimi settori l'ecosistema dei dati è un'arma a doppio taglio quindi come si bilancia l'effetto regolatorio la leva regolatoria con la leva di ottenimento dei benefici si bilancia come in tanti altri in tanti altri casi con un approccio evolutivo dell'ecosistema dati che è basato sull'individuazione di use case proprio use case che consentono scambio di valore questo è come l'Unione Europea sta impostando il modello sui data spaces sul digital wallet per le identità e sono tutti diciamo così un approccio in cui andando a guardare use case per use case ma qui possiamo poi andare anche a riflettere su chi sono i soggetti che si scambiano valore in questi use case e quanto è il soggetto pubblico effettivamente a poterne trarre valore quindi alla domanda ma quali sono degli elementi che possono abbattere disinnescare in parte il rischio di non partenza di un ecosistema dei dati sicuramente quello di puntare su use case in cui venga bilanciato l'interesse pubblico e quello privato e costruirlo progressivamente è uno degli elementi il secondo elemento fondamentale è questo in generale per tutti gli ecosistemi dei dati noi abbiamo visto molto efficaci dei modelli di governance che chiamiamo adattativi ovvero non tutti i dati sono uguali non tutti i dati che ci si scambia all'interno di un ecosistema sono uguali ci sono dei dati su cui vogliamo avere un forte controllo e quindi li normiamo in maniera pesante sotto il punto di vista semantico sotto il punto di vista dell'impalcatura legale sotto il punto di vista dello standard tecnologico ok e quindi adottiamo una governance ispirata al controllo ci sono altri ambiti di dati accessori in cui dobbiamo necessariamente avere una governance più lasca in cui saranno i soggetti quindi il numero e la quantità di regole di norme di meccanismi di governance che mettiamo in piedi sono più a facilitare ok che non a normare servono entrambe le cose perché la prima consente di abbattere far parlare arrivare forzare anche la condivisione di dati a quella granularità il dato dello smart meter il dato di consumo di un qualsiasi device per quanto possa essere poi soggetto ovviamente alle regole della privacy e quant'altro è un dato che magari vogliamo arrivare a forzare a forzarne la condivisione dall'altro non possiamo ingessare un sistema o aspettare anni affinché la costruzione semantica perfetta di questo prisma ideale del modello dati effettivamente costituisca una barriera all'innesco io voglio riprendere anche l'intervento che abbiamo avuto ieri da parte di un responsabile dell'autorità garante della privacy che ha sostanzialmente detto anche in questo caso dobbiamo bilanciare la stessa cosa che dici tu il rispetto della norma con esigenza informativa quindi lui parlava appunto di una compressione che comunque di una salvaguardia comunque della privacy dove è più rilevante di una compressione quindi questa potrebbe essere una geometria variabile interessante se posso Stefano e poi lascio magari la parola ai colleghi c'è un elemento fondamentale della privacy di alcuni approcci alla privacy che vediamo in altre parti del mondo il cittadino il consumatore è il soggetto che è owner dei dati ok allora deve essere dato al cittadino la possibilità di scegliere con chi condividere i dati allora c'è un'impostazione della privacy che dice io lascio al cittadino totalmente attraverso piattaforme di consent management vedete il caso di Singapore Singapore ha fatto delle cose molto interessanti nello scambio dati finanziari tra mondo privato e mondo pubblico ma lì è il cittadino che è il centro è il cittadino che utilizza le regole della privacy per decidere con chi e quindi tutta l'impostazione della privacy è tutta la regolazione della privacy è fatta per consentire a e non per evitare che ovviamente l'evitare che fa parte della nostra cittadino c'è una persona che ti sta sorridendo in questo momento che è il capodipartimento temo 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 di aver toccato un tema no no un tema assolutamente quindi questo è anche il tema della reputention dell'istituto fondamentalmente l'istituto ha sempre acquisito dati diciamo per finalità puramente statistiche quindi anche un approccio di tipo citizen data cioè il cittadino che vuole avere di ritorno una statistica pubblica di qualità dovrebbe dare i dati all'istat sentendosi felice di farlo poi la felicità come sapete è relativa però diciamo questo è un secondo giro libero nel senso che se Davide vuole appunto solo una cosa su questo tema della ribaltare il paradigma della privacy una nuova cittadinanza per produrre come dire per condividere i dati e produrre statistiche la storia è che la statistica ufficiale ha una cosa che viene da lontano che è molto più lontano dell'avvento della garante della privacy della regulation sulla privacy che si chiama segreto statistico segreto statistico è la base il pilastro che consente la produzione ed è il come dire il primo riferimento fondamentale del rapporto fiduciario che c'è tra il cittadino che mette a disposizione i suoi dati che partecipa rispondendo ai questionari non solo del censimento ma di quali e ecco forse questo ragionamento che stiamo facendo è anche una buona occasione per rifare un po' di pubblicità al segreto statistico che è nato insieme a noi e che è un cioè diciamo è un baluardo di democrazia del dato di cui spesso ci si diventa adesso francamente è di moda la privacy quindi si parla di privacy come un baluardo insuperabile per raggiungere il dato utile per fare la statistica marginale in più ecco in realtà venendo da lontano segnalo che c'era questo presidio forte diciamo il nostro legislatore in passato ci aveva pensato il segreto statistico c'è continua a vivere è per chi produce tutto quello che produce l'istat il pilastro di riferimento per cui tutti i ragionamenti che facciamo in questo caso di ecosistema di dati nel caso della cittadinanza che partecipa a responsabilità dietro c'è comunque questo presupposto che è la base fondamentale però diciamo che un tema interessante è comunque che nel momento in cui come nel caso dei citizen data l'interessato dà il consenso il garante è più felice di noi quindi una felicità totale è ubriaco di felicità detto questo invece vorrei tornare col professor Mariani appunto anche rispetto alla società che lei rappresenta società italiana di statistica quali sono il ruolo che lei vede per la statistica ufficiale come partner attivo per rafforzare gli ecosistemi di dati non solo da un punto di vista delle metodologie più opportune ma anche della difesa di appunto un interesse pubblico ecco questo potrebbe essere il ruolo è importante tipico delle società scientifiche quindi di mettersi a disposizione in questo caso della nostra collettività della nostra comunità di studio anche in questo caso per quello che riguarda gli ecosistemi un aspetto interessante che è già stato sottolineato ma che vorrei riprendere da un altro punto di vista è quello dell'ambiente in cui poi l'ecosistema si svilupperà che potrebbe rappresentare un po' un rischio uno dei possibili rischi perché l'ambiente lo creiamo noi e lo creiamo sulla base di norme e di indicazioni e la creazione dell'ambiente proprio perché è un ambiente chiuso può favorire o meno lo sviluppo delle popolazioni di dati all'interno dell'ambiente stesso quindi anche pensando a quello che è da Sistan per esempio è un ecosistema di dati fortemente normato che ha un approccio che è fondamentalmente legato alla nostra visione e che fa sì che alcune popolazioni di dati possano crescere rigogliose e altre invece pian piano vanno un po' ad asciugarsi e questa è una delle indicazioni di cui dobbiamo tener conto l'altro aspetto che proprio perché l'ambiente diventa fondamentale per la crescita di queste popolazioni se l'ecosistema è chiuso e ne fa parte sicuramente un aspetto pubblico ma ci sono magari anche dei portatori di interesse di natura diversa e questo potrebbe portare proprio ad una a far mirare un po' quali sono gli aspetti di crescita di interesse dei dati quindi a non voler rappresentare sempre e comunque tutti i dati che sono stati inseriti all'interno dell'ecosistema l'importanza di ognuna di queste popolazioni potrebbe essere un pochino più spinta da parte di alcune categorie di portatori di interesse rispetto ad altri e questo potrebbe non essere così interessante per noi torniamo un po' al discorso potrebbe offrire magari delle posizioni di dominanza rispetto ad altri rispetto magari ad altri interlocutori che in questo momento non popolano il nostro ecosistema e magari inserire delle barriere all'ingresso per poter entrare all'interno dell'ecosistema questo è un rischio che si può correre che si corre normalmente ogni volta che ipotizziamo un ecosistema o semplicemente una piattaforma banalmente di collezione di dati se vogliamo proprio semplificarla al massimo beh questo è uno dei rischi verso i quali insomma ci esponiamo sta a noi ecco decidere un po' quali possano essere le regole torniamo ancora a normare ancora di più l'ecosistema che ci consentano poi però di utilizzare con estrema tranquillità e di essere trasparenti nei confronti del cittadino visto che è stato citato più volte su contenuto e su come cresce ecco il nostro come si sviluppa l'ecosistema che abbiamo costruito no una sola battuta da questo punto di vista il fatto che siano in campo contemporaneamente all'istituto attori pubblici come le autoriti forse ci dà cioè è un bel passo avanti io dicevo prima Ariera in questo momento non è nel system ma è un fatto casuale nel senso che stanno nel system sei autoriti l'ultima delle quali è il CSM quello che è appena entrato sta entrando Agid il fatto che appunto siano in campo soggetti che sono nello stesso tempo data owners data producer e regulators credo che dia un contributo abbastanza strutturato insomma se posso aggiungere su questo tema uno sguardo uno sguardo avanti non necessariamente di qualche anno ma anche solo di qualche mese come si discuteva anche prima la qualità del dato diventa essenziale nel momento in cui stiamo entrando nel mondo dell'intelligenza artificiale ovviamente l'abbiamo appurato ne avrete parlato immagino più che ampiamente il bias del dato e la qualità del dato se guardiamo anche qui ad esempio gli approcci normativi che si stanno sviluppando all'estero io vi faccio il caso cinese che è un caso un caso emblematico di come un pezzo della normativa cinese ad esempio sta spingendo verso una normazione se si può dire dei del dataset di training dei training datasets ok quindi i training datasets cinesi nel loro caso significa normare il bias affinché non abbia deviazioni politiche rischi ok quindi ovviamente c'è un certo approccio ok c'è un certo approccio che ovviamente è proprio del come si suol dire sapete no il tema cioè big brother big tech e in Europa noi siamo big regulation no questo come approccio però quello che voglio dire è che se guardiamo avanti il tema della dei dataset su cui si va a fare training o anche semplicemente tuning di modelli preesistenti diventa un elemento essenziale su cui con obiettivi differenti altri soggetti in giro per il mondo si stanno muovendo anche con un approccio normativo ok grazie mi avvierei a concludere il talk vorrei un attimo ricordare alcune parole che il presidente Kelly ha formulato come conclusioni dell'ultima convention fatta dall'Ista che è appunto un invito all'istituto di aprirsi a collaborazioni esterne quindi ovviamente noi abbiamo un budget che ci viene dato a livello governativo ma se dobbiamo spingere sviluppare statistiche in modo rilevante in altri settori è chiaro che la collaborazione dell'istituto deve essere quella di mantenere la propria identità di ente produttore di diciamo statistica ufficiale ma avere anche la capacità di entrare come partner attivo anche dentro un ecosistema anche nella funzione di watchdog che lì dentro non succedono cose che il garante diciamo sogna di notte e sono incubi e concludo con 5 minuti di anticipo e ricordo al direttore generale che ho le scarpe allacciate quindi grazie 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 a tutti